e ciao amici benvenuti tutti in questo nuovo video io sono andrea lanciotti il vostro tecnico digitale e lui è chi è? chi è questo bimbo? lui è Lollo e siamo qui per augurarvi un sereno felice natale e un felice anno nuovo in questo video vi voglio ringraziare soprattutto ai miei iscritti soprattutto a chi segue i miei video e altre novità quindi vi voglio ringraziare e Lollo che vuole fare? voglio aprire tutti i regali che arriva da babbo natale apriremo tanti regali ci prenderemo una piccola pausa fino al nuovo anno dove di natale dove usciranno i nuovi video ci saranno grandi novità ve l'avevo promesso nei precedenti video e arriveranno queste novità quindi non mi resta che salutarvi sia da me che da Lollo ma soprattutto volevo ringraziare i miei iscritti i miei iscritti e volevo soprattutto per chi mi segue volevo fare un piccolo dono un piccolo regalo cioè ai primi cinque che metteranno un like si iscriveranno al canale o se sono iscritti va bene loro stesso e scriveranno un commento qui sotto a questo video riceveranno un buono amazon del valore di cinque euro a nuovo anno quindi affrettatevi mettete un like condividete questo video o qualche altro video sceglietene uno a vostro piacere quello che vi piace di più e scrivetelo subito nei commenti i primi cinque che vedrò scritti in questi commenti a nuovo anno riceveranno il mio buono amazon del valore di cinque euro li contatterò io personalmente quindi non vi resta che mettere like fare il commento condividere il nostro video e soprattutto augurarvi un buon anno e un felice e sereno natale quindi ciao a tutti da Andrea Lanciotti il vostro tecnico digitale e da Lollo Black Panther ciao a tutti e ci vediamo il prossimo anno ciao